Ti direi coerenza, credo in tolleranza, qualsiasi situazione imprevedibile, ti direi. La noia, non ho dubbi, alcibiate, il suono degli uccelli che cantano di mattina a presto, i rumori di sottofondo a notte tarda, ma rumori che sono in realtà fra stuoni. Il medico, l'ingegnere, io farei un cavallo sicuramente, che sono insopportabile perché sono troppo perfezionista, quello di cantare. Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino, perché è il mio libro preferito in realtà. Chi potrebbe essere una persona a cui far leggere il mio libro? Ma credo un greco dell'antichità, per sapere che cosa ne pensava e se avevo capito bene i greci. Un greco qualunque, magari, visto che devo poter scegliere un greco importante tipo Pericle.